Se mi segui qua sopra da un po' probabilmente ti occupi di marketing, di comunicazione o magari c'hai un tuo business, una startup, un progetto, qualcosa a cui sta lavorando e che vuoi lanciare. E quindi questo episodio è perfetto per te. Ho scelto 5 film più un bonus finale che secondo me vanno visti per chi comunica oppure per chi vende. Io sono Raffaele Gaito e ti do il benvenuto. Oltre 15 anni di esperienza come imprenditore nel digitale e qui sopra aiuto le aziende e le persone a far crescere il loro business e il loro mindset. Se ti interessano questi argomenti seguimi su YouTube e su Instagram per altri contenuti. Il primo film che ti consiglio è Thank You For Smoking. Il titolo è in inglese ma non ti preoccupare il film è anche in italiano, anzi tutto quello che cito all'interno di questo episodio c'è anche in italiano. Credo che il titolo sia rimasto lo stesso in italiano e in inglese. Anche se sapete come la penso guardate tutto in inglese e leggete tutto in inglese. Ma passiamo al film. Thank You For Smoking è la storia di un lobbista che si batte per la difesa del fumo. Quindi è ambientato in America e mostra questo tizio che fondamentalmente è odiato dal mondo intero perché fa un lavoro terribile. In una società, in un'epoca che sta cercando di eliminare il fumo, abbattere completamente il consumo di sigarette. Invece lui va in giro e fa pressione cercando di raccontare che poi non fa così male come raccontano. Ovviamente tutti sanno che non è così e tutti sanno quali sono le conseguenze nel lungo periodo. Ma vedere il protagonista di questo film in azione, nei vari contesti, dalla politica alla tv, cercando di tessere relazioni, convincere gente eccetera eccetera, a vendere questa idea continuamente è letteralmente incredibile. Veramente incredibile. È un libro straconsigliato. Dentro c'è comunicazione, dentro c'è vendita, dentro c'è psicologia. C'è veramente di tutto. Il secondo film è The Founder. Anche questo è il titolo in italiano identico al titolo in inglese. Non vi preoccupate. Ed è la storia del fondatore di McDonald's. Anzi, non dovrei dire del fondatore di McDonald's, perché lui è la persona che ha comprato, che ha acquisito McDonald's. Perché poi si scopre che in realtà è stato fondato da altre persone, ma non vi aggiungo nient'altro. È una storia super interessante, con degli aspetti molto dark, fatti di imbrogli, di mezze verità, di pugnalate alla schiena, tutto il pacchetto completo, la ricetta completa, dei grandi affari milionari che vengono fatti nel mondo. Ancora una volta però, come ho detto per il precedente, anche se appunto c'è tantissimo proprio di brutto, di dark all'interno di queste storie che finiscono male molto spesso, secondo me c'è tantissimo da imparare, per chi comunica, di nuovo per chi vende, eccetera, eccetera. Sia sugli aspetti più legati alla vendita, e in questo film c'è veramente tanto, 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 ma direi soprattutto sugli aspetti legati alla negoziazione. La parte veramente interessante di questo film è proprio sugli aspetti legati alla negoziazione. Si imparano un bel po' di lezioni importanti, tipo il mettere sempre tutto nero su bianco per iscritto. Il terzo film di questa lista invece è La parola ai giurati. In inglese il titolo è diverso, perché in inglese è Twelve Angry Men, quindi 12 uomini incazzati, ed è il più vecchio dei film che trovate all'interno di questa lista, addirittura in bianco e nero. Però mi raccomando, non lo saltate, non lo ignorate, solo perché ho detto che è vecchio, solo perché è in bianco e nero, perché è un capolavoro. E' il più bello di quelli che vi consiglio oggi, e il mio preferito è secondo me anche il più potente, mettiamola così, nonostante abbia qualche annetto. Che cos'è la storia? La storia di questo ragazzo nero che è stato accusato di omicidio e di questa giuria, composta da 12 uomini, che deve decidere fondamentalmente se farlo morire, se mandarlo a morire, oppure no. Quindi se giudicarlo colpevole oppure innocente. Il film inizia con la giuria composta da 12 uomini, di cui 11 sono convinti che lui sia colpevole, con un bel po' di pregiudizia anche sul colore della sua pelle, e una sola persona che invece pensa sia innocente. L'intero film è quest'unica persona che cerca di convincere gli altri 11 del fatto che questo ragazzo sia innocente. E' un cazzo di capolavoro. Ve lo dovete assolutamente vedere. Vale più questo film che tanti libri di marketing, di comunicazione, di persuasione e così via. Ma, straconsigliato. Il quarto film è The Wolf of Wall Street, che invece è probabilmente il più famoso di questa lista, e sono sicuro che l'avete già visto, ma lo metto in questa lista perché nel caso in cui non l'abbiate visto, vedetelo immediatamente. Come avete fatto a non vedere The Wolf of Wall Street? E' un capolavoro, va visto assolutamente, e secondo me, io sono un grande fan di DiCaprio, secondo me questa è una delle sue migliori interpretazioni. Se lo merita un Oscar per The Wolf of Wall Street. Ma, parte da parentesi polemica. Che cos'è? La storia di questo broker che finisce in carcere, tra l'altro trattura è una storia vera, che finisce in carcere per corruzione e una serie di reati. Non vi voglio aggiungere nient'altro all'interno del film. Come altri film di questa lista, anche questo è, diciamo, racconta una storia che è principalmente tragica, no? Con una valanga di situazioni terribili, di situazioni brutte che ci sono. Però anche in questo qui, secondo me, si può imparare tantissimo. Soprattutto su due cose, sull'importanza del perché, il famoso why di cui mi sentite parlare spesso qui sopra, e poi l'utilizzo della leva, della scarsità e dell'urgenza nel marketing. Veramente, da questo punto di vista, questo è un manuale, praticamente. Il quinto film che vi consiglio è Inside Out. Sì, il cartone della Disney che parla delle emozioni. E voi potreste dire, ma come? Hai appena citato DiCaprio e dopo ci metti Inside Out, un cartone animale per bimbi all'interno di una lista di film di marketing? E io vi dico, assolutamente sì. Innanzitutto perché la Pixar fa dei capolavori per tutte le età. Quindi, diciamo, non sono dei cartoni per bimbi. E poi Inside Out è una bomba, secondo me è uno dei prodotti migliori della Pixar. Come sempre, poi, in questi film di animazione ci sono diversi livelli di rottura, no? In base all'età che avete. Un bimbo e un adulto, se guardano stesso film, gli arrivano messaggi diversi. E Inside Out perché lo consiglio? Perché è interessante, secondo me. È un film che racconta come le emozioni a volte possono prendere il sopravvento e avere un impatto incredibile, poi, sulla nostra vita, nel bene e nel male. Che c'entra tutto questo col marketing? C'entra perché, secondo me, una delle soft skill più importanti per chi comunica, per chi vende, per chi fa il nostro lavoro, è l'intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva. Vale più di mille competenze tecniche. L'intelligenza emotiva, no? Nel comprendere, capire e gestire le emozioni. E, attenzione, questa cosa vale da entrambi i lati, cioè capire le nostre emozioni, che è fondamentale, noi che ci troviamo a comunicare e a vendere, e capire quelle dell'interlocutore, del nostro cliente o del potenziale tale. E, da questo punto di vista, di nuovo, Inside Out è praticamente un manuale, anche questo straconsigliato. E, infine, vi ho promesso che c'era un bonus, c'era un più uno. Perché questo è un bonus? Perché c'è questo più uno? Perché non è un film, è una serie tv, però non poteva non metterlo in un episodio che parlava di roba da vedere se uno si occupa di marketing. Qual è questa serie tv? È Mad Men, che è un piccolo capolavoro. Mad Men è questa serie tv ambientata negli anni 60, che racconta la storia di questo pubblicitario degli anni 60, e è un po' il suo lavoro all'interno dell'agenzia, e anche la sua vita privata. No, parla molto anche della sua vita privata e della sua vita lavorativa. Vi avviso, è un po' lento come ritmo, ok? Quindi non vi aspettate tanta azione, e ci sta anche, visto che è ambientato in quel periodo storico, però ne vale la pena, perché a livello di scrittura è una bomba, perché è pieno di chicche interessanti, di citazioni interessanti per noi che facciamo questo lavoro, che ci occupiamo di queste cose. E anche se, fondamentalmente, parliamo di pubblicità fatta negli anni 60, quindi un bel po' di annetti fa, secondo me certe cose sono evergreen, no? Certi concetti fanno parte dell'essere umano e valgono ancora oggi, no? Alcune no, sono sicuramente superate perché sono figlie dei loro tempi, altre cose invece sono degli evergreen e valgono ancora oggi. Quindi, se non l'avete mai visto, vi consiglio assolutamente di recuperare anche Mad Men. E se ti è piaciuta questa lista, ti consiglio di andare a recuperare sul mio canale YouTube il video dove parlo dei sette film da vedere se fai business. Anche lì, ti prometto che ci sono un paio di chicche, almeno, che non conoscevi. Grazie a tutti.